Messo! Compressione, disponibilità e soprattutto evitate... Ciao Petro! Si può tagliare il foglio? Si può tagliare il foglio! Allora, io a te ho dato il numero d'ufficio che è 10. Il 16 è di... Pigna! Guarda qua! Mettiglia la... Questo è il 19 che è di... Il 19 è en domenge! En domenge! Mettigli! Il 12 ceccarelli! Grazie! Il 41 ghiaccione! Ghiaccione però gliela voglio dare personalmente! Ma veramente? Il 41 ghiaccione? Grande! No! Facci 15... Ma non c'è mai il 61? No! C'è il 15! Poi... 4... L'8 è... Poi... 4... L'8 è... Bonelli! Grazie.